Manutenzione di armi libiche effettuate in un periodo di embargo imposto dall'ONU e peraltro svolte in nero. Potrebbe essere un altro capitolo dell'inchiesta condotta dalla procura di Brindisi sul traffico di sigarette di contrabbando medicinali effettuato utilizzando la nave Caprera della Marina Militare Italiana. Il retroscena emerge da una intercettazione ambientale effettuata dalla Guardia di Finanza a bordo dell'auto di Marco Corbisiero, il tenente di vascello poi arrestato e finito in carcere con l'accusa di estrellamente dei traffici. Nel corso della conversazione con un collega mentre stava per essere interrogato dalla procura militare l'ufficiale si dice preoccupato della possibilità che dopo il sequestro dei 700 kg di sigarette sulla nave che aveva scoperchiato il vaso di Pandora dei traffici di alcuni militari corrotti potessero emergere anche riparazioni effettuate sugli armamenti a disposizione dei libici. L'obiettivo della missione della nostra Marina era invece solo quello di ripristinare e rendere operative le 12 motovedette della Guardia di Finanza donate dal governo italiano alla Libia per effettuare il pattugliamento delle coste e impedire le partenze di navi con i migrati a bordo dirette verso il nostro paese. Era assolutamente proibito per un embargo imposto dalle Nazioni Unite non solo vendere armi ma anche fornire alla Libia assistenza o supporto in tema di armamenti. Secondo quanto emerso dalle indagini nel periodo in cui Corbisiero fu responsabile del servizio di assistenza tecnica alla Guardia Costiera Libica solo una delle 12 imbarcazioni fu effettivamente rimessa in condizioni di navigare e l'ombra di aiuti illeciti per ripristinare quelle stesse armi utilizzate spesso per far fuoco contro le imbarcazioni di immigrati rende ancora più cupa la vicenda. Intanto Corbisiero comparso in videoconferenza per l'interrogatorio di garanzia davanti al GIP si avvalso della facoltà di non rispondere e rinchiuso nel carcere giudiziario di Taranto.